è solo per te questo inquadratore proprietà privata io ti do la mano vi facciate di guardarlo perché solo quello potete fare tu sei una grande alto del cristale lei è una grande rispetto agli altri complimenti però ti piace a te vedere voglia si può fare anche un 360 più 90 rimani là con lei